Papà, dato che sarò io il mago di famiglia, posso portare fuori la spazzatura con la magia, solo per fare pratica. La magia per sbrigare le faccende, ma sei nuovo qui. Teresa, andiamo, un pochino di pratica non guasterà. E poi non sai resistere al broncio. Mi va bene. Immondizia fuori andrai, senza il mio aiuto ce la farai. Signore e signori, vi presento il futuro mago di famiglia. È peggio di un incubo.